Buongiorno, buonasera, io sono Deborah, questo è il mio canale, anzi questo è il nostro canale, qui noi parliamo di spiritualità e di vita reale e oggi ritorniamo tra i libri in questa cornice della mia libreria per parlare di un libro che come avete visto nella copertina è a metà strada tra i miei interessi, i miei studi e ciò che tanto sta riscutendo successo nel mondo dei social e soprattutto qui su YouTube e cioè la pseudoscienza. Il libro di cui parliamo è questo e ringrazio l'autore Stefano Bigliardi per avermelo inviato. La mezzaluna e la luna dimezzata, Islam, pseudoscienza e paranormale. L'autore di questo libro è il professor Stefano Bigliardi, si è laureato proprio qui a Bologna in Alma Mater e ha conseguito il dottorato in filosofia della scienza. Dopo essersi impiegato sia come docente che come ricercatore presso l'Università del Messico, della Svizzera, della Svezia e della Germania. Oggi insegna filosofia presso al Havani University di Ifran in Marocco. Edito dal CICAP, il Comitato Italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze che venne fondato da Piero Angela nel 1989 con l'obiettivo proprio di promuovere un'indagine critica nei confronti delle pseudoscienze. In questo saggio Stefano Bigliardi affronta lo scottante tema del paranormale e della pseudoscienza nel mondo islamico, non dando per scontato però quanto sia necessario definire oggettivamente e correttamente che cosa sia pseudoscienza e che cosa sia paranormale. Anche perché l'entità di questi fenomeni oggi nel mondo sia reale che sui social è tale che è contingente di non solo parlare dei fenomeni in sé ma anche di tutti quei fenomeni che sono collegati alla pseudoscienza e al paranormale. Secondo Wikipedia o Wikipedia, pseudoscienza è qualsiasi dottrina che in superficie appare essere scientifica o che ha dei presupposti scientifici, ma che contraviene ai requisiti di verificabilità richiesti dalla scienza. Secondo il divulgatore scientifico e debunker Martin Gardner, pseudoscienza è una teoria interpretativa della natura che, partendo da osservazioni empiriche per lo più fortemente soggettive, tramite procedimenti solo apparentemente logici, giunge ad un'arbitraria sintesi in nastridente contrasto con idee comunemente condivise. L'enciclopedia Treccani ci fornisce un'altra definizione come una teoria o una dottrina o una corrente di pensiero che pretende di essere riconosciuta come scienza pur essendo priva di fondamenti scientifici. Secondo quanto sostiene il CICAP, che è il Comitato italiano per le indagini proprio sulla pseudoscienza e che viene riportato a pagina 12 del libro, pseudoscienza è ogni credenza o pratica che viene presentata come scientifica ma che non segue appropriatamente il metodo scientifico e manca di prove o di plausibilità. Mentre il termine paranormale fa riferimento a eventi descritti come contrari alla legge della fisica e quindi che sono soprannaturali o miracolosi. Ancora più interessante riguardo alla definizione di pseudoscienza è la definizione che viene riportata dallo stesso autore nel retro di copertina del libro. Infatti viene scritto La pseudoscienza si serve di un inganno psicologico. Indossando vesti seducenti ti fa sentire speciale ma in realtà ti vende un prodotto avariato indipendentemente da quale sia il tuo paese o la tua cultura. Infatti il fenomeno della pseudoscienza è un fenomeno assolutamente trasversale alle religioni, alle culture e a tutte quelle che possono essere le frontiere di questa nostra terra contemporanea. Senza occhiali non vedo che in quello islamico. E questi fenomeni sono il promuovere la diffidenza verso le istituzioni ed un preoccupante anti intellettualismo. Andando invece a soddisfare tutto quel desiderio di scorciatoie intellettuali o pratiche che portano per esempio ad una persona che non ha mai studiato fisica a discorrere di fisica in modo migliore e con più competenza di una persona laureata. Addirittura gli dà l'illusione di aver compreso qualcosa che la persona che ha passato la vita a studiare non ha mai, non è stato in grado di comprendere. Quanto sia diffuso questo fenomeno globale, cioè il fenomeno della pseudoscienza e di tutte le attività ad essa collegate, quanto sia diffuso a livello globale questo fenomeno non è assolutamente dato dirlo, in quanto, a quanto si evince dalla lettura di questo libro, manca un esame del fenomeno. Anche quando questo fenomeno ha portato dei danni in campo della salute o della ricerca scientifica. In effetti, sotto diversi travestimenti, continua nella sua considerazione l'autore, la pseudoscienza rimane un attacco a due beni estremamente comuni, a due beni estremamente preziosi, che sono il metodo scientifico e il pensiero critico. E purtroppo, a volte, sembra che questi due beni siano ritenuti tali solo dagli studiosi e dai ricercatori, mentre per altri siano ritenuti assolutamente sacrificabili sull'altare dell'illusione e della storia più fantasiosa o più anche affascinante, perché molte volte la pseudoscienza o il paranormale ci fornisce una storia estremamente più affascinante di quella che ci può fornire la realtà. Personalmente non avevo mai riflettuto su quali possono essere le conseguenze di queste teorie pseudoscientifiche. In effetti, soprattutto nei tempi passati, mi ero occupata di pseudostoria o fantapolitica o pseudoscienza e l'avevo sempre fatto con il sorriso sulle labbra, ritenendole tutto al più delle teorie molto divertenti, ma non mi ero mai fermata a pensare che in realtà non avevo mai avuto modo di ragionare sul fatto che dietro questa pseudoscienza, dietro queste teorie, vi è in realtà un intero mondo, perché la pseudoscienza genera delle pseudoteorie. Le pseudoteorie vengono proposte da degli pseudostudiosi. Queste teorie vengono proposte all'interno di una pseudolitteratura scientifica, anche se a volte trovano spazio in letteratura scientifica accreditata a causa di una mancanza di controllo adeguato. In realtà questa pseudolitteratura scientifica non appare come tale ad una prima occhiata, perché hanno nomi altisonanti e molte volte hanno nomi molto simili alla letteratura ufficiale. In realtà si tratta di letteratura, si tratta di riviste pseudoscientifiche dove è possibile pubblicare a poco prezzo, quindi pagare per pubblicare, invece di inviare la propria ricerca che deve essere sottoposta ad un controllo e poi pubblicata. Ovviamente questo porta a uno strano fenomeno che gli pseudoarticoli redatti da pseudostudiosi molte volte compaiono prima di articoli seri redatti da studiosi seri sullo stesso argomento, semplicemente perché il vero studioso ha perso, chiamiamolo perso, tempo nel controllare e ricontrollare tutti quelli che sono le informazioni e le bibliografie e le fonti, quindi le informazioni e le fonti di quello che andrà a pubblicare, mentre questi pseudostudiosi non hanno bisogno di effettuare nessun controllo e pubblicano quindi in maniera molto più veloce. Non solo, ma questi pseudoarticoli, comunque queste pubblicazioni, entrano a far parte del curriculum di questo studioso. Quindi vi possono essere pseudostudiosi con un nutrito numero di pubblicazioni e dalle pubblicazioni, come ben sappiamo, dipende anche la carriera e la remunerazione di uno studioso e questo può portare degli pseudostudiosi a ricoprire degli incarichi di alto livello portando avanti delle pseudoteorie della pseudoscienza e per pseudoscienza includiamo anche la pseudostoria e tutto quello che è pseudo nell'ambito delle conoscenze. Questo cosa porta? Porta a danneggiare la comunità scientifica e può addirittura portare a far passare per vero qualcosa che non lo è semplicemente perché vi è più letteratura ed è stato pubblicato prima e non ha nessun riscontro dalla quella che diventa la controinformazione ma che dovrebbe essere invece l'informazione primaria perché ancora si stanno effettuando degli studi. E viene citato nel libro un caso che mi ha interessato anche personalmente perché con grande dispiacere sono venuta poi a conoscenza del fatto che quello che io credevo e che mi era stato detto come un dato scientifico in realtà non è assolutamente scientificamente provato e mi riferisco a quelli che sono stati definiti sconcertanti risultati delle ricerche di un biologo francese nel 1988 per quel che riguardava la memoria dell'acqua e lì infatti sosteneva che l'acqua potesse mantenere memoria per esempio di una medicina che vi era riposta dentro. Se questo flacone finiva non bisognava per forza andare a comprarne uno nuovo bastava che ne rimanesse un pochino qualche goccia e bastava aggiungere di nuovo dell'acqua shakerarlo e l'acqua le ultime gocce di quest'acqua che contenevano la medicina avrebbero trasferito la propria memoria all'altra acqua contenuta nel flacone. Di nuovo si aveva un flacone medicinale. Io per prima ho creduto a questo e io per prima ho ampiamente utilizzato questo metodo e qui vi entra anche in gioco l'effetto placebo di come credere che prendere quelle gocce in realtà stavo prendendo la stella di Bethlehem per calmarmi lo stato ansioso oppure il rescue remedy e mi faceva effetto anche se in realtà erano semplicemente delle gocce allungate venne poi scoperto che i risultati della ricerca di questo biologo francese erano stati diciamo manomessi per non dire falsificati da lui e dalla segretaria molto probabilmente rispondendo alla forte pressione e anche economica che era stata fatta da parte di notissime e sottolineo notissime case farmaceutiche omeopatiche per quanto riguardava su risultato di questo tipo di ricerche. se in occidente abbiamo preso litri e litri di gocce senza nessun tipo di proprietà fitoterapeutico o terapeutico nei paesi islamici qual è stata la conseguenza di questo pseudo risultato scientifico? Bene, è stata creata una nuova tecnologia ossia un dispositivo che era in grado di estrarre l'energia curativa del Corano dall'acqua sulla quale era stata imposta una benedizione attraverso la lettura delle sure coraniche che come si crede che come si sa per i musulmani hanno anche un potere curativo un potere magico e su questo argomento che è esemplificativo di tutto quello che significa pseudoscienza in occidente e in oriente vi rimando alla lettura del terzo capitolo del libro La mezzaluna e la luna di mezzata che ha come titolo pseudomedicina coranica e antimedicina in chiave islamica Il saggio si parla di pseudoscienza e di paranormale nel mondo islamico riferendosi non solo al mondo islamico dei paesi del Nord Africa quello che viene comunemente portato ad esempio ma riferendosi anche a situazioni che si sono create nei paesi islamici sub-sahariani e orientali e questo accresce il valore di ricerca e di studio che è stato portato avanti dall'autore con i suoi 12 capitoli questo libro non affronta solo questo caso di pseudoscienza ma ne affronta anche altri non solo ma tratta anche casi per esempio di pareidolia islamica come per esempio analizza la visione islamica sugli extraterrestri e sull'ufo e sul terrapiatismo sul mito del grande convertito cioè grandi personaggi famosi e storici che si sono convertiti all'islam ma la cui conversione è rimasta segreta per non andare a inficiare determinati equilibri politici economici e così via poi ancora si parla del grande dibattito nel mondo islamico tra evoluzionismo e creazionismo di quello che è il miracolo scientifico che ha una connotazione estremamente particolare nel mondo islamico in quanto nel Corano vengono descritte delle conquiste scientifiche che sono state fatte solo di recente e queste vengono considerate come dei veri e propri miracoli scientifici e quindi come delle vere e proprie prove che il Corano è stato rivelato invece magari di considerarli per quello che sono cioè il frutto di una competizione tra Oriente e Occidente tra quelli che erano i miracoli o spacciati come tali dal cristianesimo e la necessità di far comprendere a coloro che si convertivano all'islam quanto potesse essere grande e miracolosa la lingua araba rivelata con il Corano a coloro che però la lingua araba però non conoscevano e che imparavano solamente per poter leggere gli Adiz o il Corano e che erano veramente molto restii a credere che la lingua araba fosse inimitabile e che fosse quindi una lingua rivelata da Dio insieme alla sua parola ma d'altra parte se conteneva già parole che andavano a descrivere per esempio le impronte digitali che sono state scoperte solo di recente ecco che questo va a provare il fatto che la lingua araba non poteva avere un'origine umana ma bensì divina e le pseudoteorie sugli argomenti che vi ho citato innanzi e che sono gli argomenti dei dodici capitoli del libro non vengono solo discussi nelle pagine web sui siti internet o attraverso i canali youtube o nei circoli esclusivi ma vengono in realtà anche molto spesso insegnate nelle aule universitarie con un con quello che viene definito o ritenuto un rigore scientifico e quindi diviene veramente difficile poi andare a scardinare ed abbattere queste teorie il mio pensiero è che questo atteggiamento nei confronti della pseudoscienza e cioè che queste pseudoteorie vengano difese dalla religione possa diffondersi anche qui in occidente così come si è diffuso nei paesi islamici e quindi la religione divenga la paladina più grande di un freno al progresso scientifico sostenendo invece quelli che sono degli atteggiamenti superstiziosi come ci si può difendere da questo il libro sottolinea attraverso il pensiero critico e il metodo scientifico ma e questo è un mio pensiero è necessario comprendere come utilizzare queste due armi che fanno parte dell'uomo razionale che fanno parte dell'uomo e che consentono all'uomo di evolversi e svilupparsi di evolversi anche spiritualmente volendo quindi come poter utilizzare queste due armi importanti senza però divenire degli aridi registri delle umane conquiste io vi consiglio la lettura di questo libro in descrizione trovate il link sia ad amazon che al sito del CICAP e vedo se riesco a trovare anche altri link rispetto ad altre librerie online dove è possibile reperirlo è scritto in uno stile assolutamente scorrevole perfettamente comprensibile molto fresco stefano stefano biliardi ha proprio grazie a questo suo insegnamento a questa sua capacità di insegnare uno stile estremamente fresco e facilmente comprensibile anche quando tratta i temi più difficili o più difficilmente affrontabili di quello che è la religione islamica io ve ne consiglio la lettura sia se siete appassionati di religione sia se volete conoscere l'islam un po' al di fuori delle solite polemiche conoscerlo di più nella sua vita di tutti i giorni e anche poter ragionare su un fenomeno globale che assolutamente ci sta interessando tutti la copertina voglio nominare l'autrice la copertina che è veramente molto bella e che non è una di quelle solite copertine alle quali ci hanno tristemente abituato le case editrici è creata da Monica Di Pietro io vi ringrazio per essere stata con me nella presentazione di questo libro nella sua analisi di aver ascoltato quello che mi ha più colpito e le motivazioni che mi spingono a dire leggetelo anche voi nel primo video parleremo di una religione a noi nota e di un argomento altrettanto scottante nella società di oggi nel mondo di oggi perché oggi ci si trova ad affrontare quella che potrebbe essere definita un'emergenza sociale ma che non amo definire tale perché è una frase che può avere delle connotazioni negative ma in realtà ci troviamo ad affrontare una nuova umanità che non è più maschile e femminile solo non è più duale ma che si esprime anche in un modo diverso e anche che i vecchi e i nuovi movimenti religiosi si trovano a doversi confrontare con questa nuova realtà secondo me avete già capito di chi e di che cosa parleremo ci rivediamo presto e come sempre se non mi vedete è perché sto arrivando a Grazie a tutti.